Sempre vicina alla mia città, non ho mai smesso di seguire le vicende di Palazzo Baronale. Cinzia Mirabella, neoassessore alla NU della Giunta Palomba, così ha commentato ai microfoni di TV City la sua nomina. Non mi sono mai allontanata, la mia passione per la politica mi ha fatto sempre seguire con grande interesse le vicende di Palazzo Baronale. Quindi mai allontanata e sempre vicino alla mia città. Ieri la firma in comune, alla neoassessora vanno le deleghe alla nettezza urbana, al verde pubblico e alla polizia municipale. Ponterò tutto innanzitutto sulla mia esperienza amministrativa da politico e poi mi sento molto serena perché sono affiancata a due validi consiglieri che ringrazio, anzi colgo l'occasione per ringraziare che sono Luigi Mele e Mario Buono e ovviamente anche il nostro sindaco. La città è allo sbando, ha commentato, sin da subito mi sono attivata, per risolvere le criticità sul fronte rifiuti, incontrando la ditta e il personale. Cercheremo di capire quali sono appunto le falle di questo processo perché qualcosa non funziona e va innanzitutto capito, inquadrato e stanato perché non si può proseguire così, siamo in una città allo sbando, ovviamente i marciapiedi hanno momenti in cui di difficoltà sono saturi di spazzatura, quindi vanno ovviamente interessati gli uffici e capire lì dove bisogna intervenire e magari perseguitare chi appunto sta commettendo un illecito perché bisogna capire se sono cittadini, se sono appunto interventi mirati nel voler creare difficoltà. Bisogna un po' capire adesso dove bisogna andare a rafforzare appunto il nostro impegno. Assessore, tra le sue deleghe anche quello alla Polizia Municipale. In un periodo storico che vede una città che chiede soprattutto maggiori controlli? Maggiori controlli, questo sicuramente, vanno ovviamente a braccetto con l'ANU perché questi controlli dovranno essere soprattutto verso coloro che non rispetta le regole. Siamo in un momento storico molto difficile e molto particolare perché questa pandemia non ha fatto purtroppo sconti a nessuno, soprattutto per quanto riguarda ovviamente il personale che in alcuni momenti ovviamente è stato decimato. e noi cercheremo ovviamente di essere vicini, di capire laddove ci sono criticità e anche di verificare se è possibile incrementare l'organico o spostare risorse che possono esserci di aiuto.